Le 15 vincendo tanta cosa con la Juventus, anche con la nazionale, assicché sono molto contento. L'ultima cosa, la Juventus, l'hai nominata. La Juventus che affronta una squadra che voi conoscete bene, che tu conosci bene, stai imparando a conoscere, questa Borussia Mönchengladbach. Possiamo dare un consiglio, un avviso, un pronostico? A Juventus c'è tutto per vincere la partita. Ha tanto giocatore forte che sempre lo guardo. Si, penso che si. Può andare fino alla fine anche loro. Fai bocca al lupo. Bocca al lupo a tutti i Juventini.